Sono il coordinatore infermieristico e tecnico dell'unità operativa Covid dell'ospedale di Lugo. Abbiamo intrapreso questo percorso con tantissima paura, paura verso i nostri pazienti e paura per quanto mi riguarda verso i miei collaboratori, paura di non rendergli abbastanza sicurezza in questo percorso. Ma in realtà stare assieme ci ha garantito di raggiungere con un buon livello e dei buoni risultati la nostra sicurezza che cercavamo, la sicurezza e l'aiuto e la vicinanza ai nostri pazienti. Siamo potuti stare accanto a loro con mezzi alternativi e siamo stati assieme in una modalità improponibile perché abbiamo unito assieme delle persone che non si conoscevano nemmeno e abbiamo lavorato come se ci conoscessimo in realtà da sempre. A metà di questo percorso ci siamo resi conto che alla fine quello che facciamo lo facciamo con lo stesso cuore, con l'intenzione per cui abbiamo iniziato questo percorso professionale e questo percorso pieno di emozione e sentimento assieme, sempre per noi stessi, per i nostri collaboratori e per i nostri pazienti. Grazie! Grazie!